Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Parliamo di teatro, riparte, inizia la seconda parte della stagione di Casa Fools e abbiamo al telefono la codirettrice di Casa Fools, Roberta Calia. Ciao, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti e a tutti. Allora, di che cosa dobbiamo parlare? Beh, il pubblico che sceglie gli spettacoli mi sembra veramente una genialata. Ci racconti tutto e poi quello che succederà appunto il 20 e il 21 gennaio. Sì, guarda, questa è una tradizione bellissima del nostro piccolo teatro che si chiama Casa Fools e Teatro Vanchiglia. Ormai una tradizione qui da noi è un gruppo di spettatori che decide insieme a noi quali sono gli spettacoli da programmare. Abbiamo proprio deciso fin dall'inizio, fin da quando abbiamo aperto cinque anni fa, di mettere il teatro in mano alle persone, agli spettatori. E hanno fatto un lavoro bellissimo perché ne è uscita fuori una stagione incredibile che inizia proprio questo fine settimana. Cioè voi avete dato a queste persone, diciamo, delle proposte, no? E loro hanno scelto. Quanti anni hanno gli spettatori campione, diciamo? Guarda, in realtà è un campione di persone molto vario perché ci sono dagli studenti ai pensionati, c'è tutta una varietà. Ci sono tantissimi under 35 e di questo siamo orgogliosi perché significa che i giovani sono interessati al teatro, al contrario di tante statistiche che sentiamo nel nostro settore. e quindi siamo orgogliosi che sia così. Loro hanno valutato un sacco di proposte perché noi abbiamo ricevuto più di 200 proposte arrivate da tutta Italia. Sì. E loro ne hanno dovute scegliere cinque. Come hanno fatto? Hanno visionato dei video, mi sembra di capire. Sì, abbiamo lavorato con i video, abbiamo lavorato prima su dividendoci in sottogruppi perché se no avremmo dovuto vedere tutti un monte ore di video infinito. Però è stato un lavoro molto impegnativo e loro l'hanno preso con serietà, consapevoli dell'impegno e del fatto che era una responsabilità per decidere cosa condividere con gli altri nella programmazione del teatro. E ne hanno scelti otto, otto spettacoli. Sì, in realtà loro direttamente ne hanno scelti cinque, ma la stagione è composta da otto titoli perché abbiamo il piacere di avere per la prima volta nel nostro teatro anche una produzione internazionale che arriva dal Messico, un accompagnamento di una giovane compagnia di Torino che debutta grazie al fatto che viene a fare le prove nel nostro spazio e poi un nostro spettacolo storico che torna sul palco per quest'anno. Oh, che meraviglia! Invece, insomma, questo poi per chi volesse visionare il cartellone completo trova tutto sul sito, giusto? Tutte le informazioni sono sul nostro sito che è casafools.it Ok, invece il 20 e 21 gennaio cosa succede? Il 20 e 21 gennaio partiamo proprio con uno spettacolo scelto dai nostri spettatori che si chiama Dandy Alighieri. Fantastico! È fantastico perché si tratta proprio di un viaggio nell'inferno di Dante ma ha fatto in un modo assolutamente insolito, cioè attraverso il cabaret, il teatro canzone con una coppia di attori comici che sono straordinari, Filippo Capparella e Giacomo Tamburini. Quindi davvero dal cabaret allo stornello c'è davvero di tutto, mi sembra di capire. Sì, sì, apriamo la stagione ridendo ma poi i gusti e i sapori che ci saranno nella stagione saranno molto variegati perché veramente si passa da, facciamo la tragedia greca, c'è il clown, c'è la prosa, c'è di tutto e siamo molto fieri che ci sia anche questa varietà. Quindi vi invitiamo a venirci a trovare perché ne vale la pena. Allora, 20 e 21 gennaio, Dendi Alighieri a Casa Fools, io ringrazio davvero tanto Roberta Caliaco, direttrice di Casa Fools per essere stata con noi. Sempre un piacere sentirti. Ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, ciao!